Salve a tutti, benvenuti a modare quella serie su FIFA 23 con il nostro padre. Io ho deciso una cosa adesso, la farò adesso, sto registrando subito dopo la scorsa puntata, proprio subito dopo, ho deciso una cosa, io mi sono stancato di essere imbarata dello script, proprio mi sono stancato, mi sono stancato tantissimo, mi sono stancato, rischio probabilmente, c'è rischio che da un lato, da un lato rischio di, forse proviene la difficoltà, la spettacolarità di questa carriera, forse no, forse semplicemente la riequilibrio, forse riprendo finalmente a divertirmi, invece di essere frustrato e basta, invece di essere completamente imbarata dello script, perché mi sono stancato di essere imbarata dello script, mi ci sono stancato, non ne posso più, essere completamente impotente, avere che, cioè ritrovarmi in reazione nel quale, avere il pad in mano, no, è praticamente lo stesso, perché non riesco a fare niente, perché non mi consiglio di fare nulla, mi sono stancato, mi sono stancato tutto ciò, ragion per cui, da cosa potrei prendere male, bene, non lo so, io da questo momento in poi, giocherò a leggenda, che non è un basso livello di difficoltà, è tipo, è tipo, in tutte le modalità, è tipo il livello di difficoltà più alto, in carriera è il, è il, è il, è il, è il secondo livello più alto, io non so, ora, c'è la possibilità che io, questo rischio di, essere fra che te troppo dominante, ma preferisco essere troppo dominante, e chiudere in fretta la carriera, piuttosto che vedervi, che farvi vedere una carriera nel quale, il sottoscritto, è letteralmente, in balia d'avversario, e, non me lo vedo io, non me lo veditate voi, quelli che di voi seguono, questa carriera, penso, vogliono vedere, una carriera che sia in qualche modo divertente, e non penso sia divertente vedere quello che si è visto finora, quindi, giocare a livello, a difficoltà leggenda, che poi, io dico, c'è il rischio che arrivi, che diventi troppo facile per me, non lo so se diventerà troppo facile per me, in tutta sincerità, non è detto, cioè, ora sono in modalità, ora sono abbassato la difficoltà a leggenda, è possibile che io perda uguale, è possibile che io perda uguale, però, quello che penso, spero, mi auguro, è che così, la, il, la, la, lo script, non sarà così impattante, come lo è stato finora, non sarà, dominante, come è stato finora, cioè, è stato, quel che ha dominato in questa serie, finora è stato letteralmente lo script, per, per vincere, per vincere il campionato di, di TNB, ho dovuto, in costruzione, una squadra talmente forte, da, da vincere quasi per inerzia, non è possibile, e non è possibile, non mi va, ripeto, probabilmente, magari perdo uguale, stavolta, magari perdo uguale, e, e, magari lo script, riuscirà comunque, essere impattante, eh, però, magari non è meno, magari, ci sono, ci sarò io, in questa serie, in questa serie, ci sarò anche io, e non sarà puro script, c'è, qualche modo farò io, anche, c'è, il giocatore gioca, non subisce, ecco, comunque, ora, ti ho capitare, con Milan, vediamo, quello che riusciamo a fare, come va, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, ok, io ho iniziato sulla fascia, come amico mio, amico Fritz, ho iniziato sulla fascia io, al terzino, allora, calma no, 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 va bene, 1-0 Milan, Decaterer, Decaterer, va bene, ok, oh, si può stare, va bene, meno che, non sembra essere cambiato molto, però va bene, va bene, siamo, oh, proviamo a giocarci, perché non pretendo di vincere con il Milan, eh, qua, qua è stato quasi normale, è stato quasi normale, sto gol, non c'è stato nulla di, certo, sto vedendo un po' di sciolinsocche da parte del Milan, lo capisco, è il mio, sono primi in classifica in questo universo, però, 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 dai, dai signori, ma porto darmi, puoi andarci per favore? no, vabbè, 2 a 0, 2 a 0, si ci mette pure la sfiga, capito, non ci basta, rososcript, pure, pure la sfortuna, vabbè, finché la sfortuna è un fattore, è un fattore normale del gioco, ci può stare, ecco, ci può stare, però, però, dai, De Smet, devi stare in aria, devi stare in aria, De Smet, tira, come non detto, De Smet, dormi, dormi, De Smet, dormi, dormi, amico mio, dormi, dormite tutti quanti, dormite, va bene, vabbè, vabbè, un po', vabbè, ok, diciamo che, Calderon, bravo Calderon, bravo Calderon, però, porca, posso capire in base a cosa, però, scusi, ma non la, vabbè, si, vabbè, si trasformano in raggio missile, con, in raggio missile, con circuiti di mille valvole, tra le stelle, sprint, e va, vabbè, ma dai, ragazzo, farò veramente, vabbè, e niente, signori, signori, è stato bello, mi sa che finisce con un esonero, eh, e io ve lo dico, se, se, se mi esonero, finisce la serie, perché io non, non ho intenzione di, continuare con altre squadre, perché ha senso col Palermo, senso, senso col Palermo, questa serie, ha senso col Palermo, questa serie, ha senso solo, esclusivamente, con il Palermo, con altre squadre, non ha senso, come non avrebbe senso, tipo, tornare indietro, fare capo, tipo, acchitarsi in monotaria, da non arrivare all'esonero, se mi deve arrivare all'esonero, arriva, vorrà dire che finirà la serie, porca miseria, ma, nalco, ah, guarda, finirà la serie, a quel punto, ogni slot di FIFA, ci faremo altro, cosa, insomma, che poi eventualmente vedremo, non poteva sbagliare, comunque, se è rifatto che, se è rifatto che si perde uguale, anche a leggenda, a leggenda, si perde uguale anche a leggenda, non cambia niente, si perde uguale, a leggenda si perde uguale, rivero, 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 sei il difensore, sei il difensore, io non capisco perché, ho il giusto e fischia adesso che stavo ripartendo, niente, 3 a 0, prima un tempo, brutti, devastante, devastante quanto ha effetti, devastante, letteralmente devastante, 3 a 0, il primo tempo che letteralmente ha compromesso la partita, e di conseguenza anche il passaggio del turno, vedo che lo Shaolin Soccer non prosegue anche, se puoi fare un lancio per favore, Desmet è tua, Desmet, vabbè, Desmet, niente, Desmet, Desmet oggi non c'è, Desmet oggi dorme, Desmet oggi è, Anche il guardaline dorme, noto, noto che anche il guardaline dorme, che cosa, ma che fischio, ma che dici, dai, ma che siete, due rigori, due rigori, due rigori, ragazzi, due rigori, che cosa è questo, due rigori, due rigori, sì, due rigori, giusto per essere certi, vabbè, basta, 6 a 1, ho abbassato alle chain, vabbè, è assurdo che, che io debba finire così, con questa squadra, vabbè, vabbè, va bene signori, va bene, va bene, è andata così, è andata, è andata così, allora, ok, vabbè, ok, ok, l'ultimo giocatore, vabbè, e niente signori, è andata così, io non è per valutare il lavoro, sto dicendo, apprezzo il tuo impegno, ricamino, il tuo posto di squadra, non è a rischio, non rompere i coglioni, e in questo momento, c'è altro a cui pensare, allora, accantin, 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 e la di, 2 milioni, no 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 no, no no no, no no, no no, più avanti, più avanti, accantin, 2 milioni e 3, vabbè, voi alzate, voi alzate, alzate la posta, alzate la posta, ora, pre partita con la salernità, solo a rifolta leggenda, è successo, siamo pronti, allora, finita, finita la Coppa Italia, abbiamo proviamo vincere abbiamo abbiamo dovuto provarci vabbè abbiamo solo il campionato abbiamo solo il campionato e abbiamo bisogno di fare un recupero dobbiamo fare tipo il recuperone della vita ma tipo il recuperone della vita dobbiamo fare se il gioco mi consente devo fare tipo il recuperone della vita vincere partite due partite recuperare della vita perlomeno arrivare almeno quello ci serve almeno quello serve almeno quello dai smette o dai 1 a 0 avanti le smette dai smette 1 a 0 avanti forza 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 signori no no dai chi ok va bene di qua che è il mass niente va bene dai dai decisi è l'ora della riscossa signori è l'ora della riscossa the smette va bene va bene dai primo palo dai vega e mezzo attenzione qua vai elmas ancora vega le smette no non tirare ok mostrati mostrati a giro ritira rigore 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 ora dai vega vega sparato 7 niente o niente non è i tuoi rigori continueremo a avere problemi niente da fare niente da fare schlager metti in mezzo va bene fa niente dai fa niente ok dai che tua seriamente tua a posto venga 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 schlager 2 a 0 bellissimo il loro portiere ottima l'intelligenza artificiale il loro portiere che è inciampato è inciampato è inciampato sul suo difensore bellissima sta cosa non me ne sono in presa diretta non me ne sono accorto l'ho visto il replay è meraviglioso cacchio mi fai pure te è meravigliosa avesse il portiere inciampato su questi difensori che bello FIFA che bello mannaggia la miseria FIFA che bello è incredibile come FIFA diverta per i motivi sbagliati è incredibile è veramente incredibile allora e qua benissimo De Smet tutti i fenomeni ma sono i loro portieri io metto 100 ti è i loro che i nostri portieri ma e sì però De Smet ti ho crosso verso di te tutti e tutti sposti tutti scansi tanto rigore Mussarati Mussarati ottiene rigore ce la faremo a segnare il suo rigore dai dai vega facciamo così se arrivo a 5 a 0 simulo arrivo a fine risultato così magari riusciamo potrebbe avere un senso così potrebbe decisamente avere un senso ok venga no io volevo darla a De Smet però vabbè fa niente comunque fa niente dai dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi i chi i chi no ecco po' time po' time vabbè e venga ecco che ne dici vega mezzo Helmas a giro 4 a 1 dai 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 signori dai signori dai signori dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi betnouri De Smet benissimo De Smet quando dici tu tiri quando dici tu però non quando premio io quando dici tu qualcuno ci può andare grazie i chi i chi bravo i chi ripartiamo un tuna che Helmas ancora un tuna in mezzo ci sto io no ci sta ne smette che la mette 5 a 1 dai va bene va bene signori va bene va bene signori va bene va bene va bene 5 a 1 tranquillo sereno va benissimo così e comunque vabbè io purtroppo vabbè c'era di nego con la salernitana è la salernitana eh ci dico che vinciamo in maniera netta ci può anche stare io direi che è arrivato alla fine il primo tempo faccio un po' di cambi turnover direi che fa un po' di cambi un po' di turnover direi che con questo 6 a 1 al primo tempo ci siamo guadagnati ci siamo guadagnati decisamente la simulazione del resto della partita allora andiamo chi fa giocare chi fa giocare per gli ambiti di giocare primo d'angelo tipo cooper tipo richter e anche boris anzi no io direi non è boris 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 va bene riprendiamo i giocatori sono entrati giusto sono entrati sì quindi andiamo direttamente al risultato 8 a 2 alla fine 8 a 2 ma va bene va bene signori è il momento della rincorsa è il momento della rincorsa è il momento della rincorsa 8 a 2 la squadra prima di tutto rivero 7 tranquillo allora mancavi dei giorni ne smetto un esempio poi avete pensato è merito dei ragazzi assolutamente sì rivero niente non non vuole avere meriti benissimo sta arrivando l'esonero sta arrivando l'esonero ragazzi ditemi ok ditemi sta arrivando l'esonero sono tutte le offerte ritirate va bene ciao giocatore grazie grazie averlo detto grazie averlo detto adesso partita con il bologna però prima e scusate un attimo posso vedere un attimo gli obiettivi se c'è qualcosa che posso fare per sollevare gli obiettivi perché non è stata tra pessima l'intura allora a 5 ok questa l'abbiamo ottenuto questa l'abbiamo ottenuto campionato non penso ma questo l'abbiamo fatto ingangia almeno 20 anni con potenziale la valutazione di giocatori attualmente in quel luogo e minchia allora con potenziale superiore alla valutazione media di giocatori in quel luogo 2 su 3 l'ho fatto e cacchio e non posso andiamo se posso in extremis allora vediamo un po' allora eeeh no non non registro non registro non svincolati età massima 20 andiamo un po' svincolati massimo 20 allora ne ho un po' e ci sono ti amate non fanno tutte skyfo proprio non non c'è nessuno vabbè ma giustamente ma giustamente non ce ne so sarebbe sarò un po' bello per essere vero eh no non no tu chi sei Nathan Bailey no niente nessun fenomeno nascosto nessun fenomeno nascosto aspetta scusa questo ah Baxter vabbè nessun fenomeno nessun giovane fenomeno nascosto nessuno 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 potrei cercare magari un cdc ma via un po' sto provando a vedere sto provando a vedere se no non c'è più ok c'è la trania allora no svincolati ormai no allora posizione visto che cdc massimo vent'anni qualsiasi a via ricerca tanto mediano ci serve quindi non è che dici eh mediano mediano buono mediano buono mediano forte e non 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 c'è un mediano buono e nico c'è dei non c'è un mediano buono porca miseria tu che sei 71 salvatore da ah la vicca l'ho venduto io vabbè e porca miseria allora Breno da costa io non so io non so mi sa che mi sa che questo guion cdc e questo è tempo però però vediamo magari magari lo da comunque buono come potenziale magari lo da comunque buono mattia jankovic schifo ok e un po' io sto continuando a vedere se per caso c'è qualche mediano perché è là dove buco di formazione quindi anche comprarlo eh comprarlo per la prossima stagione magari è un po' magari oh che ne sai che ne sapete provo provo falso discorso niente va bene e aspetta andiamo andiamo a vedere questo guion allora ufficio trasferimento lab mercato oh magari questo guion è vero c'ha potenziale alto che ne sai 10 10 io provo a ingaggiarlo è un pippone probabilmente però e comunque avremmo comunque un quarto un quarto mediano a gratis diciamo onana c'ha 25 che si per me parte camara guion guion allora cato non abbiamo informazioni su di lui cdc è un 86 cos'è quei pugni leader addirittura leader lui proprio è agile senza forza insati discreta pippa però o magari c'ha il potenziale contatta per acqua proviamo non so tanto un buco ce l'abbiamo quindi tanto vale allora sporadico ehi va bene ehi va bene figurano 4 anni controffetto facciamo i 5 da questo e poi pippone magari ignorano la cata decisora a 13 milioni non chiedi da pochi bonus avanza offerta va bene ok abbiamo fatto l'obiettivo vediamo un po' va bene va bene ovviamente ovviamente a 72 doverò è un 72 doverò abbiamo raggiunto l'abbiamo fatto sì sì l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto l'obiettivo bel lavoro programma grazie 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 l'abbiamo fatto l'obiettivo così abbiamo fatto almeno questo quello termina stagione l'ho fatto pure quindi andiamo 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 prossima partita che non sia l'ultima contro il Bologna il Bologna signore pari contro il Bologna andiamo andiamo signori andiamo signori andiamo signori it's time it's time Palermo Bologna anche qua andiamo per cercare di vincere di portare avanti un discorso di un discorso rimonta non so se ce la faremo ci proveremo più che altro io vorrei perlomeno arrivare a qualificarci alle coppe europee desmet 1 a 0 e alle e alle e alle signore e alle 1 a 0 dai signori dai signori unduna bravissimo di qua avanti unduna ancora elmas dai desmet e alle 2 a 0 dai 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 desmet dai desmet dai desmet 2 a 0 allora dai che calmi calmi stiamo molto calmi stiamo calmi stiamo molto calmi stiamo molto calmi un tuna ok elmas 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 lancia ancora per desmet oh quasi forse era meglio provare il pallonetto ma va bene ok ok puntuna dai che potevi di testa dovevi andarci vabbè calma calma ok benissimo puntuna di dalla il di qua desmet niente non non si ferma più desmet non si ferma più 3 a 0 3 a 0 desmet non si ferma più desmet non si ferma più e in mezzo attenzione in angolo va bene va bene va bene no calma ok va bene ok di qua di qua elmas elmas niente 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 va bene fa niente fa niente pane in mezzo martini ci prova niente elmas appoggia schlager e ancora angolo va bene appallate con la di rabbia signori di rabbia questa sta seconda parte di stagione ce la ce la facciamo a pane e rancore ce la facciamo questa parte di stagione ah ce la facciamo a pane e rancore dai dai signori adesso ancora di qua in mezzo niente vabbè con angolo primo palo di testa e niente ancora siamo sempre lì siamo siamo sempre lì siamo siamo sempre lì tipo questo non è non è non è solo di rabbia e incazzo nero incazzo nero proprio avanti ok quello sarebbe fallo di mano però va bene calma benissimo ok elmas di qua benissimo e leale e sono 4 e sono 4 dai dai signori io anche qua come altre come altre partite al 5 a 0 arrivate al 5 a 0 si simula direttamente il risultato e dovesse arrivare abbastanza presto potrei addirittura potrei addirittura pensare a una quarta partita visto che comunque sono finite sono finite tutte in anticipo ecco sono finite fino a tutte con discreto anticipo potrei pensare a giocare eventualmente una una quarta partita dove si riuscire a fare 5 a 0 in tempi brevi ora dai andiamoci a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi te smette mamma mia te smette però mamma mia te smette però no no ok va bene bravo cobel bravo cobel dai calma calmi siamo calmi martine no e e oggi questa questa la gioca nemo fino in fondo mi sa che questa la giocheremo fino in fondo e non ci sarà una una quarta partita perché devo pensare anche a non fare puntare troppo lunghi ma qua questa vedo che vedo che vedo un bologna molto scioling soccer devo dire cioè vedo vedo dello scioling soccer spinto da parte del bologna e verete quello che vi ciò di cui vi parlo anche a difficoltà anche a difficoltà leggenda si vede si vede diciamo si vede lo script pesante che ha portato a fare il gol perché dovevano fare il gol solo che a questa difficoltà io sono io e la mia squadra sono talmente forti che siamo talmente talmente forti che non abbiamo non abbiamo letteralmente non c'è modo per il quale non basta e mettiamola così con tutto con tutto lo script non riusciamo comunque a cavarcela a difficoltà leggenda nonostante ci metta tre quarti d'ora e il massaggiarsi anche se ho prenduto subito il tasto del tiro comunque signori dai dai no qualcuno benissimo 88 dove roll come niente anche qua se non era per martinez questo era 4 a 2 e intanto 5 a 1 e a lei e va bene e va bene così signori va bene così 5 a 1 ci sta direi ci sta ci sta benone ci sta dai va bene manda questa palla ok attenzione vega 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 game 7 match signori 6 a 1 e a lei e a lei signori vi dico solo la rimonta è partita vi dico solo che la rimonta è partita la rimonta è partita dico solo questo la rimonta è partita dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi 89 questo ormai la portiamo a casa ormai la portiamo a casa in maniera abbastanza severa nonostante lo script comunque ci provi nonostante tutto lo script ci provi noi questa la portiamo a casa in maniera anche abbastanza serena bene così signori direi bene così comunque va bene 5 a 2 faranno anche il 5 a 3 arriveranno a farlo no e invece no 5 a 2 signori 5 a 2 direi assolutamente bene così io direi anzi 6 a 2 scusate 6 a 2 vero perché avevano fatto 12 6 a 1 scusate mi faccio solamente tanti che me li dimenti comunque grande smette 4 volte smette un top player assolutamente sì un match più equilibrato non c'è stata partita perché è vero perché non c'è stata partita è merito dei ragazzi assolutamente merito dei ragazzi va bene e noi niente noi comunque si continua a ferte il momento di abate no riunione per 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 voltare il lavoro petukristrea dopo poi ci pensiamo poi ci pensiamo petukoi poi ci pensiamo poi ci pensiamo di tirare le offerte va benissimo allora mette conto i giovani italiani dalla Turchia e Ardemir un fau deo meglio metti il maz no Atla Atla il maz Atla Atla quanto è alto 1,75 Atla Semir no Serkanil maz no Muratkara no il Diz potenziale massimo 67 ottimo no Kaya Iden con patate te pamme Demir dai quindi Demir vabbè poi dalla Romania Boris Toma vediamo Toru Toma no Eric Tom tutti i Toma tutti i Toma Niku Toma pure tutti quelli che non sanno giocare al calcio tutti i Toma Gaber Rad no Dino Cristea no soltanto Polistoma rimane annulliamo e vabbè vabbè e ora invece dall'Italia abbiamo Edoardo Mancini no Vito Esposito no Leonardo Cacedei no Enzo Coppola no Emiliano Fiore no Carlo Bianco no Enzo Esposito men che meno ritirata l'offerta benissimo ottimo ottimo signori signori chiudiamo questa puntata con la scalsifica che ci vede settimi a sei punti dalle coppe europee sei punti com'è che abbiamo vinto due partite e siamo dietro di sei punti quando prima eravamo dietro di quattro e vabbè 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 signori detto questo un termicemente un solo ultimo motivo e alla prossima a 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